bentornati nuovo episodio dedicato alla galleria filtri di photoshop e siamo arrivati all'effetto grana pellicola un effetto che secondo me è molto molto interessante adesso non fate caso qui mettiamo tutto a zero come sempre altrimenti non capiamo nulla io zoom un pochino così vediamo meglio quello che sta succedendo e andiamo a vedere cosa succede nelle parti scure e nelle parti chiare dell'immagine nel momento in cui io vado ad aumentare la granulosità ovviamente sto introducendo un effetto noise diciamo fotografico è abbastanza simile all'effetto che avremo ovviamente così è estremo se se lo introduciamo poco per volta è abbastanza simile all'effetto che avremo scattando con valori iso molto elevati con la nostra fotocamera o con il nostro cellulare nel momento in cui andiamo a modificare le zone di luce non succede nulla perché zone di luce è legato all'intensità e l'intensità è a zero ora io vado ad aumentare l'intensità e vedete che quello che succede è che sta aumentando la luminosità nelle parti più chiare dell'immagine se io vado ad agire sulle zone di luce vedete che agisco sul sull'intervallo tra le parti scure e le parti chiare quindi questi due funzionano in accordo tra loro mentre la granulosità è un pochino più a sé stante infatti io posso anche spegnerla e l'intensità e le zone di luce continuano a funzionare normalmente in questo caso zone di luce intensità diciamo che vengono utilizzati per andare a simulare un sensore sforzato che quindi sta andando a bruciare sulle zone di alte luci quindi in questo caso se vogliamo andare proprio a simulare una bruciatura sulle alte luci potremo fare qualcosa di questo tipo abbiamo chiaramente una perdita di dettaglio nell'immagine e un effetto anche particolarmente poco gradevole che può tuttavia aiutarci a simulare quella che è una foto scattata con una camera di di scarsa qualità o con le impostazioni sbagliate o comunque in una condizione di luminosità molto molto scarsa vediamo che all'aumentare del rumore abbiamo anche una diminuzione della gamma dinamica che è esattamente quello che succede quando si scatta con una camera che sta sforzando sui valori iso che sta scattando con dei valori iso che sono al di fuori del suo range nativo perché ricordiamo che quando una camera scatta con gli iso nativi ottiene dei risultati ottimali ma nel momento in cui li supera sia in alto sia in basso i risultati tendono a essere un po meno buoni e questo è quello che fa l'effetto grana pellicola è un po' di fuori del suo range nativo